Docenti aggrediti da studenti e da genitori, il ministro Valditara ha detto che saranno difesi dall'avvocatura di Stato. Si tratta di una novità importante. Ne parliamo con il vice direttore della tecnica della scuola, Reginaldo Palermo. Professore, lei cosa ne pensa in merito? Allora, innanzitutto dobbiamo dire una cosa, che in realtà questa decisione del ministero, pur apprezzabile, non rappresenta una novità assoluta dal punto di vista normativo. La disposizione è contenuta in un regio decreto del 1933, quindi ha esattamente 90 anni. Quindi diciamo che semmai al ministro può essere ascritto il merito di averla ricordata e di averla ricordata non soltanto agli addetti ai lavori, ma anche a tutto il personale della scuola, ai dirigenti scolastici, ai docenti, agli amministrativi, collaboratori scolastici e così via. E quindi così stanno le cose, insomma. Ma cosa dice questa norma, questa vecchia norma di preciso? Allora, il regio decreto del 1933 prevede che l'avvocatura dello Stato possa, come dire, difendere, intervenire nei giudizi, quindi può intervenire in tribunale a favore del dipendente pubblico che sia in qualche modo coinvolto in una vicenda giudiziaria o di carattere penale o di carattere civile. Questo è il succo della norma del 1933. Ovviamente il patrocinio, se così lo vogliamo chiamare, dell'avvocatura dello Stato è del tutto gratuito per il dipendente. Ma si parla anche di offese fuori dai locali scolastici? Allora, qui dobbiamo intenderci. Certo, in linea generale si può intervenire, l'avvocatura può intervenire anche nel caso in cui le offese nei confronti del dipendente, del docente, siano state fatte fuori dai locali scolastici, a condizione ovviamente che le offese siano state rivolte all'insegnante per ragione del suo servizio. Facciamo un esempio banalissimo. L'insegnante viene aggredito da un genitore mentre sta facendo la spesa al supermercato. Il genitore incrocia l'insegnante e lo prende a ceffoni dicendogli tu sei colpevole del fatto che ieri hai messo una nota a mio figlio. Quindi è chiaro che l'offesa viene fatta in virtù, in ragione del lavoro che l'insegnante svolge. Cosa diversa è se l'offesa viene fatta per motivi di natura personale, inerenti alla vita privata dell'insegnante o del genitore. Professore, ma andiamo nel concreto. In quali casi si può accedere a questo tipo di difesa? Allora, diciamo che in linea di principio l'avvocatura dello Stato può intervenire sia nel caso in cui l'insegnante sia coinvolto in una vicenda penale sia nel caso in cui sia coinvolto in una vicenda di natura civile. Il problema qual è? Che nel caso in cui l'insegnante sia coinvolto penalmente, cioè come soggetto che deve rispondere di un reato, è chiaro che è un po' difficile che l'avvocatura dello Stato possa concretamente intervenire appunto a difesa del docente, perché molto spesso in questi casi gli interessi della pubblica amministrazione non coincidono con gli interessi del dipendente. Diversa è la situazione in cui ci si trova quando il docente è coinvolto in una vicenda di natura civile come parte l'ESA, cioè mi spiego meglio. L'insegnante viene offeso da un genitore o a parole o addirittura con gesti, atti, quindi ceffoni, sberle e quant'altro. Allora in questo caso nel momento in cui si apre una vicenda giudiziaria a carico del genitore che ha commesso questo atto, allora a quel punto l'insegnante si può costituire parte civile e in quel momento può chiedere il patrocinio dell'avvocatura dello Stato, non prima, cioè non è che l'avvocatura dello Stato si preoccupa di far avviare il procedimento nei confronti del genitore, non è questo. Ma quindi si tratta sia di violenza fisica ma anche di violenza verbale? Certo, perché anche la violenza verbale può essere comunque nociva per l'insegnante, quindi certo, può essere un qualunque atto di violenza, una violenza anche di natura verbale molto grave, molto forte, può comunque comportare un danno, se vogliamo, di natura psicologica o come si dice in termini giuridici di natura esistenziale, cioè quindi la qualità della vita dell'insegnante viene messa a repentaglio e quindi anche questo è un danno per il quale l'insegnante può chiedere un risarcimento. Ecco, però stiamo parlando appunto di danno da riparare in sede di processo civile. Bene, quindi in conclusione un docente aggredito sia fisicamente sia verbalmente cosa deve fare? Ecco, questo è molto importante chiarirlo e d'altra parte sta scritto anche nella nota del Ministero dell'Istituzione del Merito del 17 febbraio. Allora, nel caso in cui un docente venga aggredito, la prima cosa che deve fare, se ovviamente vuole ottenere giustizia e se vuole avere un risarcimento del danno, deve comunque presentare una denuncia o una querela nei confronti del soggetto della persona che lo ha aggredito. Questo lo dice chiaramente la nota. Anzi, la nota dice che nel momento in cui l'insegnante chiede il patrocinio della avvocatura dello Stato, deve produrre questa documentazione. Quindi, prima di tutto, bisogna fare una denuncia o una querela. Poi, una volta che si è fatto questo passaggio, bisogna aspettare che ovviamente la magistratura, l'autorità giudiziaria apra un procedimento penale a carico della persona che ha commesso l'atto, che ha commesso il gesto. Solo a quel punto, quindi in sede di processo penale contro chi ha commesso il reato, l'insegnante può chiedere di eh costituirsi parte civile e in quel momento può chiedere appunto il patrocinio della avvocatura dello Stato. Ecco, quindi questa è la procedura. Bene, bene, grazie al vice direttore della tecnica della scuola, Reginaldo Palermo, per queste risposte molto utili per tutti i docenti. Un saluto a tutti e alla prossima. Grazie a voi. Grazie a voi.